ciao a tutti da iota e bentornati sul canale questa sera mass effect andromeda e andremo finalmente a svelare uno degli enigmi di questo gioco ovvero una quest esamineremo le prove dell'assassinio dell'omicidio che c'è stato il primo omicidio su andromeda ok andremo a vedere qua ma questo io questo non l'avevo visto ci sono tre piani perfetto la nostra mappa è stata segnata il posto sul luogo sulla nostra mappa è stato segnato e con la nostra macchina dobbiamo girarci dall'altra parte sarà un po problematico perché c'è un lago di mezzo quindi non so non so come passare qua in mezzo penso così ci fa passare spero ah scanalizziamolo scanalizziamolo ricchezza fuori portata computer minerario non capisco però mi adeguo siamo giusti no ma si può chiudere senza premere due volte esc no eh perché sto scendendo di lato non lo so ma soprattutto cos'è questo robo qua cos'è c'è anche della delle cose a terra va bene ci siamo quasi finalmente vedremo cosa è successo attenzione sono delle blatte qua sono mangiucchiato stavano scansionando questo coso qua signori però che spettacolo eh immaginate voi di essere un pieno italiano un qualcosa mai visto ma soprattutto pieno di radiazioni ok troppe radiazioni vediamo un po' di guardare nel frattempo facciamoci una passeggiata no che salto che ho fatto meno male che la macchina regge non ce la fa no qua ci siamo stati ma lo posso schiacciare? no questa cosa è brutta però ok proseguiamo per per scoprire dove hanno portato il cadavere secondo me solo sono smangiucchiato non lo so però è bello ucciderli non servono a niente ma è carino e cosa c'è lì? dovrebbe essere il cuovi d'uscino infatti quindi mi sa che mi ha sparato alle spalle perché si è messo davanti qua c'è qualcosa se sono nemici li facciamo fuori cosa facevano qua questi cosi? super condensatore scaricabile sì lo so adesso mi riparo un attimo elemento zero incontrarà sempre il supporto vitale prima che schiatto non capisco cosa stivano questi cosi qua ok niente facciamo finta di nulla e nel senso lasciamo listare aspetta perché ho visto un minerale forse esatto il litio non raccogliamo credo che ci siamo quasi abbiamo quasi scoperto che cosa è successo penso che qui dentro ci sia l'inferno infatti eccoli là guardali guardali grazie a tutti È un cacchino, bene. All right, fan out. Confirming l'initiativa, including Omnitool assigned to security chief Hiram Reynolds. If you power it up, I can assume its data. Accessing data, the chief was scanning at the time of death. The scan picked up two shots. One, a standard initiative rifle report, which missed. The other from behind, a Kett pulse weapon. This proves Milken is innocent. He didn't shoot Reynolds. Seems clear to me. Good work. Pathfinder, there is also an audio recording. Go ahead and play it. No! Where's Milken? Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. That sounds like... Confirming. Voice identified as suspect, Milken. So he did not kill the chief. But he meant to. Need another chat with the man. Why? We did not let him suffer. We found it. 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 Vabbè, facciamo finta di nulla Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', io andrei qui Voglio capire cosa c'è là Come si fa ad andare lì? Basta girare Proviamo Ma sapete che io adesso saltirò da lì, no? Saltirò, salterò Ah no, non si può saltare Sono tanti animali Io volevo andare qui e saltare, invece no Allora andremo qui Vediamo un po' cos'è Non c'è niente Ah, mi sto facendo malissimo con le radiazioni, non va bene Ho capito, però posso fare il viaggio veloce Buono Ci riprovo e vedere un attimo Cosa succede? Come fare ad uscire da questo casino qua? Ok, siamo giusti, sempre dritto Uno e due Sembra dritto, però Non so fino a che punto Perché Scusa, ma qua cos'è c'è? Cos'è questa cosa? Se non l'avevo vista Queste stresciate qua Che hanno spaccato il terreno E' crollato tutto qua C'è del cadmio Lo prendiamo E Dientriamo Allora Il discorso è che per andare lì è un po' Un casino Perché non possiamo Navigare velocemente C'è nel senso Allora C'è un Dovremmo fare un giro largo Ripassare da dove siamo passati prima Praticamente Vabbè Questa macchina fa cose spettacolari Quindi Non c'è problema Ah Allora lo schiacci Sì Stiamo andando giusti Spero di non morire Perché Cade di brutto qua Non ce la farò mai Fatti E' ancora troppo presto Per arrivare qui Ok Ok è ancora troppo presto Quindi l'unica cosa da fare è questa E' ancora troppo presto Bisogna Metterci uno scudo protettivo per le radiazioni Ok ragazzi Mente Ci ho provato Volevo andare lì E non ce l'ho fatta Bene Però abbiamo scoperto chi è l'assassino Chi è stato L'unica cosa che possiamo fare è tornare sulla nave velocemente e capire cosa è successo Così completiamo la missione E poi direi di tornare qui perché c'è ancora tanto lavoro da fare Ma prima di tutto torniamo sulla tempesta Perfetto Come faccio a tornare adesso? Questo è il discorso Così voglio fare Mappa galattica Ah visuale mappa sistema Ok Io sono qui Mappa settore Esatto Pfeiffer Questo Questo Dovrebbe essere lui no? Il Nexus Andiamo Anomalyse Anomalyse E se riusciamo a tornare al Nexus Un viaggio abbastanza lungo No è un pianeta Ah no E' lui Eccolo qua Ce l'abbiamo fatta Sbarcare sul Certo Devo capire chi è stato E un po' E un po' E un po' Oh la la Ah questa è chiusa Brava Eh questa è una bella domanda Ok dai Dobbiamo dire la verità quindi dobbiamo fare di meglio Ok Ah guarda chi c'è Nabina No era operazioni se non ricordo male Ma non ce l'ho taggata però No caccia di rocce Esatto Sì e no Mi hai mentito è brutto da dire a uno condannato No caccia di rocce No non sono io a decidere Non sono io a decidere Aveva l'intenzione ma non ha ucciso lui E non puoi giudicare una persona per l'intenzione Non è C'è qualcosa che posso aiutarti Direttore ho guardato il mordere Nelken non lo ha fatto Ma c'è proof che lo ha pensato Non c'è per l'intenzione Te ne sei lavato le mani così Tutto ad un tratto Tecnicamente la giustizia parla chiaro Tu puoi avere l'intenzione ma se non commetti il fatto Il fatto non sussiste Quindi Io posso pensare qualsiasi cosa Ma non ho mai Se non commetto mai nulla Posso pensare di andare contro la legge Quindi essere illegale Ma non farlo E quindi rispettare sempre le leggi Automaticamente sono innocente Quindi No deve essere rilasciato Per forza Per forza Non potevamo fare altrimenti Bene ragazzi Direi che Per oggi è tutto Dalla Nexus E dopo aver completato anche questa missione Che credo adesso sia veramente completa Sì Direi che È tutto Ciao a tutti Alla prossima Bye bye